Sale a 527 il numero delle persone con covid decedute. Nell'ultimo bollettino dell'ASREM è riportato un nuovo decesso, un uomo di 77 anni di termoli, che era ricoverato in malattie infettive, reparto in cui si registra un altro ricovero ma anche quattro dimissioni, dimesso pure un paziente da anziano fragile. I nuovi positivi sono 383 in 70 comuni, su 3463 tamponi refertati tra molecolari e antigenici. Numeri a due cifre riguardano ancora termoli con 55 casi, 42 quelli di Campobasso, 33 di Venafro, 31 di Sernia, 13 casi di Agnone, 12 di Boiano e Trivento, 11 di Montenero di Bisaccia. Numeri inferiori a 10 negli altri comuni in cui sono stati riscontrati i contagi. Tasso di positività all'11%, 128 i nuovi guariti. Gli attualmente positivi in Molise sono 9619. I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 39 adesso, di cui 3 in terapia intensiva, 23 in malattie infettive e 13 in anziano fragile. 16 dei ricoverati hanno la terza dose di vaccino, 9 la seconda, 1 la prima e 13 non sono vaccinati. Intanto a Venafro riattivata la RSA Covid.